Ero studente all'Università di Trieste, alla Facoltà di Giurisprudenza, facoltà che poi ha segnato, come dire, la mia vita finendo a fare l'avvocato. Noi eravamo all'interno del Movimento del 68, un nucleo di giovani studenti socialisti. Avevamo una nostra organizzazione che si chiamava il Nucleo Universitario Socialista in cui facevano riferimento gli universitari non solo di Trieste, ma gli universitari anche che venivano dalle province di Gorizia, Udine, Pordenone. Quindi noi avevamo, come dire, una collocazione all'interno del Movimento del 68, non dico anomala, ma un po' diversa rispetto ai compagni, alle compagne di allora che facevano esclusivamente riferimento al Movimento in quanto tale. Noi avevamo iscritti, come del resto erano iscritti anche i giovani comunisti di allora, ad un'organizzazione politica che era il Partito Socialista. Noi eravamo tutti giovani socialisti e avevamo, come dire, un doppio versante di attenzione politica. Quello che erano le vicende dell'università, i movimenti dell'università, ma anche per parte nostra, attraverso la nostra organizzazione politica, le tematiche più propriamente della società italiana in quanto tale. Quello che ricordo, noi non eravamo, a differenza della maggioranza di allora, marxisti in senso classico, in senso storico. Noi avevamo sempre un filone alla fine libertario, tipico del Movimento Socialista, che ci faceva molte volte fare delle scelte, seppur minoritarie, perché noi all'interno del Movimento degli studenti eravamo, come dire, una componente minoritaria di fatto, ci faceva fare delle scelte che in qualche modo erano molto più legate ai temi, come dire, della libertà in senso lato, della creazione anche di forme di contropotere all'interno della società che non rispetto alle scelte fatte al tempo da una rigida ortodossia di carattere marxista. Episodi, come dire, rilevanti da ricordare, ad esempio la grande manifestazione degli studenti che si fece a Torino dopo il colpo di Stato in Cile, in cui arrivammo da tutta Italia, giovani socialisti, e ci trovavamo, e questo fu una costante poi negli anni della nostra partecipazione al Movimento, molto più vicini alle posizioni, ad esempio, dei gruppi extraparlamentari che non dei compagni iscritti alla Federazione Giovanile Comunista. Anche in sede locale molte volte si assistette a questa, come dire, collocazione ideale su alcuni temi più vicina a quelli che allora erano in lotta quintino, in avanguardia operaia, in movimenti cosiddetti extraparlamentari che non alla posizione della Federazione Giovanile Comunista. In ambito universitario, quali furono, come dire, per noi i ricordi? Mi ricordo l'impegno contro i cosiddetti decreti delegati che cercavano a metà degli anni 70 di ridare in qualche modo una nuova regola all'ordinamento universitario, ma che in realtà non intaccavano la struttura arcaica di allora secondo quelli che erano un po' i desiderata o le posizioni espresse dal movimento degli studenti. Veniva vissuta come una sorta di restaurazione. vista con l'occhio di oggi potremmo dire che poteva trattarsi quasi di una rivoluzione rispetto a poi quello che è successo all'interno della società e anche della struttura universitaria. Questo fu, come dire, come caratteristica di una posizione, di una presa di posizione su un tema tipico della struttura universitaria, fu un elemento caratterizzante. Va detto che il movimento degli studenti a Trieste non era solo però limitato, e in questo ci ritrovavamo, ad una dimensione esclusivamente, tra virgolette, scolastica. fu un movimento che tenne sempre molto attenti anche i riferimenti culturali, le attività culturali che crebbero all'interno e parallelamente al movimento e tenne molto alta in città, in anni difficili, una forte attenzione antifascista per il rispetto delle regole della democrazia contro un fenomeno fascista che in quegli anni era molto presente in città, ma anche secondo noi, con le valutazioni di allora, molto pericoloso per quello che poteva rappresentare sugli assetti democratici, con episodi anche inquietanti che si svilupparono, che scaturirono in quegli anni. Alla fin fine eravamo, per arrivare ad una sintesi, delle compagne e dei compagni che si muovevano in sintonia, ma anche in modo parallelo rispetto alle logiche del movimento, perché alla fin fine noi cercavamo di impostare la nostra azione sempre in quella logica di salvaguardia dei valori democratici e pluralisti che faceva parte del nostro DNA e della nostra cultura e sulla quale ogni tanto ci scontravamo con visioni politiche e organizzative profondamente diverse.